Se ci si immergerà nel mondo fluttuante dei colori, vivendolo correttamente, si troverà che da esso scaturiranno figure che porteranno ad espressione i segreti dell'universo. Così l'austriaco Rudolf Steiner definisce la pittura. Grazie all'associazione di promozione sociale Onlus, amici della pedagogia Waldorf e Milmolt Cremona, anche nella città del Torrazzo sarà possibile sperimentare questa forma di arte elaborata dal filosofo, pedagogista, artista e fondatore dell'antroposofia che consente di compiere importanti esperienze con i colori che ci permettono di riarmonizzare la nostra interiorità e ricercare un equilibrio tra spirito, corpo e anima attraverso la tecnica dell'acquerello. Con il dottor Paloschi abbiamo proprio l'intento di portare il pensiero steneriano a Cremona e abbiamo pensato di iniziare appunto con un percorso artistico. Rudolf Steiner ha delegato e attribuito all'arte un valore salvifico ed evolutivo per l'uomo, per cui si è immerso proprio nel mondo dei colori, ha trovato questi tre colori che ha definito colori splendori, che sono il giallo, il blu e il rosso, che rispendono appunto le tre facoltà che sono quelle di corpo, anima e spirito dell'uomo. E attraverso la tecnica dell'acquerello su carta bagnata, proprio perché ci deve essere questo passaggio dall'immateriale al materiale, è questa tecnica all'intento di riconnettere l'uomo a queste tre forze, quindi di ricollegarlo alla sua parte sia animica e sia spirituale, di riarmonizzarle e di riconoscerle attraverso questi processi e procedimenti artistici che oggettivamente, seguendo il gesto intrinseco dell'essenza di ogni colore, riequilibrano e rimettono in contatto con queste forze. Dieci appuntamenti con l'arte animica, da aprile a giugno, assolutamente da non perdere. Il corso inizierà il 5 di aprile, ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30, fino al 7 di giugno saranno dieci incontri, si svolgerà in Viale Trento Trieste 23 Barrae, sì alla cooperativa sociale Le Radici. È aperto a tutti, diciamo dai 18 anni in su, è un corso per adulti. Iniziamo con gli adulti per poi probabilmente a settembre proporre ai bambini ad altre fasce di età.